In partenza per Berampur è un altro istituto sovvenzionato da Missione Calcutta che accoglie anche i bambini dei villaggi vicini i nostri operatori sociali ci segnalano i casi più urgenti attualmente sono 74 i bambini ospitati i grandi imparano il mestiere si può vedere come sono ben seguiti e accuditi grazie al sostegno di un padrino o madrina questo ragazzo di nome Anil Sardar ha perso la gamba in un incidente si sposta come può con un lungo bastone presto avrà una protesi è un operario come tutti gli altri è alcofacciato a inserire berline e tornamenti sui sali un mestiere che insegniamo sia ai ragazzi che alle ragazze il nostro arrivo è un richiamo per tutta la popolazione del villaggio lo attraversiamo a piedi e con l'aiuto di un traduttore ci intratteniamo con la gente locale per prendere coscienza della loro situazione e far comprendere quanto siamo partecipi delle loro difficoltà incontrare personalmente i più bisognosi consente di capire a pieno il valore degli interventi di missione calcutta nelle vicinanze dell'istituto abbiamo organizzato un dispensare ora andiamo a visitarlo con i fondi che missione calcutta manda regolarmente il dispensario garantisce cura e assistenza ai purtroppo numerosi ammalati che altrimenti non potrebbero permetterselo ritorno al villaggio e congelo prima di ritornare a calcutta il giro programmato è terminato e facciamo ritorno in città ha iniziato a piovere e ora l'acqua scende a catinelli per chi abita nelle capanne la pioggia diventa un vero dramma in pochi minuti l'interno è invaso di acqua e non rimane più un solo angolo asciutto per sedersi tanto meno per stendersi i bambini più grandi sguazzano nell'acqua ma le madri non sanno mai dove far riposare quelli piccoli primavera Un handicappato grave si sposta come meglio può, nella totale indifferenza della gente che gli passa accanto. Ognuno è alle prese con le proprie preoccupazioni. Aspettiamo il treno che in una notte ci porterà a Udlabari, una località ai piedi dell'Himalaya, nel distretto del Pierwood. Qui Missione Calcutta ha in corso un'importante opera per aiutare i figli dei raccoglitori di tè, costretti a lavorare con ogni tempo per meno di un euro al giorno. In mancanza di sostegno, questi bambini finirebbero come i loro genitori analfabeti a raccogliere foglioline di tè per lo stesso miserabile compenso. Ma grazie a un generoso benefattore e all'impegno di Missione Calcutta, per loro non sarà così. Abbiamo infatti in costruzione un complesso scolastico che una volta trattato, si è terminato accoglierà oltre 1500 bambini e studenti, cambiando totalmente il loro futuro. La struttura offrirà ciò che questa gente non avrebbe mai osato sperare, non solo dito, alloggio e istruzione, ma anche cure mediche se necessarie. Il nostro generoso benefattore ha pensato a tutto, prevedendo un dispensario e una clinica mobile per portare l'aiuto a chi non è in grado di muoversi.